Con il nuovo presidente della cististica torrenovese Piero Natoli, Presidente, una stagione che comincia oggi, che campionato sarà? Questo sarà un campionato molto difficile, molto duro, visto le squadre che ci troveremo ad incontrare. Noi, da parte nostra, abbiamo allestito un roster abbastanza valido, naturalmente, tutto sta a vedere quello che succede durante l'anno, durante il campionato. Credere nei sogni, dunque, quest'anno non è più un dovere, ma è un obbligo. No, quest'anno non è un sogno. Quest'anno praticamente ripartiamo dalle certezze acquisite l'anno scorso, che si devono trasformare in concreti successi. Presidente, il finestrazione sarebbe contento se? Se vinciamo.